Musica andiamo Anche lui c'è 22 Dove sono? Dove sono molto bene? Non mi fanno entrare, ciao! Guarda, tutto bene? Molto bene, e tu? Tutto bene a scordare Elliot che sta entrando? Sì! Tutto posto? Tutto posto! Vedi, vedi dentro! vedo un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti presento mia moglie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due anni in tutto per il lavoro, tra editare, fare foto. Daria ha fatto l'editing, ci ha aiutato. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 tra i primi anche a sfruttare al meglio i file digitali, anche quelli piccoli, cercare di lavorare il più intensamente possibile per riuscire a tenere un effetto che non fosse plastica ma che fosse fotograficamente visivo, non so come è meglio spiegarmi. E poi adesso in questi ultimi due o tre anni abbiamo cominciato a lavorare sui formati sempre più grossi, quindi vuol dire questo ingrandire ancora di più le foto, quindi andarci ancora più dentro e quindi abbiamo in questo modo a fare un lavoro di artigianato sui pixel proprio, quindi proprio si va a trasformare il pixel come se fosse un, prendiamo il pixel e lo facciamo diventare dei grani digitali, ma non è tanto per imitare il più possibile l'effetto della pellicola ma è per dare quell'effetto che alla fine ha anche l'occhio umano perché anche l'occhio umano si è inciso, si è molto preciso, però ha quella tridimensionalità, quella cosa che si perde molto invece con le macchine super sharp e super plastiche e quindi con l'Olympus e con tutto il nostro sistema di grana abbiamo trovato un buon compromesso per avere dei buoni ingrandimenti e con una resa che fosse insomma piacevole. Bravo Marco, complimenti, vai, zian dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.